Bella raga, buonasera, buonasera dunque giornata ricca di emozioni in questa Champions League per le italiane dopo 11 anni due italiani accedono ai quarti di finale di Champions League dunque ce l'ha fatta anche la Roma che ha battuto di misura 1-0 lo Shakhtar Donetsk grazie ad una rete di Edin Dzeko con evidente errore del portiere che esce in ritardo una partita sostanzialmente brutta, una partita da classico 0-0 decisa da un fuoriclasse, da un top player, non so se è proprio top player comunque è un grandissimo giocatore, un fuoriclasse Edin Dzeko dunque è la prima occasione utile ha saputo far gol e questi sono gli attaccanti e i giocatori che fanno la differenza dunque rispetto ai giocatori diciamo normali. Complimenti alla Roma, complimenti a Di Francesco che la Roma erano 9 anni mi sembra, più o meno erano 9 anni che non passava se non sbaglio ai quarti di finale di Champions League, c'era riuscita la Roma di Luciano Spalletti poi eliminata bruscamente dal Manchester United e dunque passa a sorpresa il Sevilla che sbanca lo Charford, dunque sgambetto di Vincenzo Montella allo Special One Mourinho grazie alla doppietta appena entrato di Ben Yeder, due gol per lui dopo due minuti dall'ingresso in campo, seglato l'1-0 poi raddoppio e alla fine il 2-1 firmato da Romelu Lukaku, altro grandissimo attaccante, mi piace una cifra, Romelu Lukaku e il Manchester United dunque che è fuori contro ogni pronostico, aveva pronosticato il passaggio del turno, aveva il 65% di possibilità l'ho pronosticato l'1, eh ragazzi mi sono sbagliato, ho preso la Roma che aveva detto che si è qualificato, e dunque sorpresa di Vincenzo Montella, è un Manchester United dove le scelte soprattutto iniziali di Mourinho sono lasciate desiderare, Fellaini preferito a Pogba, Pogba ormai messo ai margini del progetto di Mourinho, non so, spesi quest'estate non stiamo parlando di 3 anni fa, 110 milioni per riaverlo di nuovo dalla Juve, 105, 100 quando saranno, comunque è stato un acquisto a tripla cifra, dunque poi lo metti in panchina in un ottavo di finale di Champions League così, non so cosa è succedendo tra Paul Pogba e il Manchester United o José Mourinho, ovvero non lo so, e fatto sta che il Sevilla è passato, domani sera ci saranno altre due gare, c'è il Bayern di Monaco che affronterà il Besiktas fuori casa, forte del 5-0 casalingo, credo che abbia il 100% di possibilità di passare come pronosticato già stamattina, mentre è interessante la sfida a sto punto Barcellona-Celsi nella Champions League, nulla è deciso fino all'ultima istante tranne il 5-0 del Bayern del Besiktas, ma nulla è deciso perché si parte dall'1-1 dunque si parte un botteggio di parità, è vero al Barcellona anche lo 0-0 andrebbe bene ma lo sappiamo che la mentalità del Barcellona non è quella di andarsi a chiudere di fare lo 0-0 ma quello di dare spettacolo, speriamo che sia una bella partita anche per chi sta a casa a guardarla. Ragazzi complimenti ancora la Roma, nulla da dire per il momento è tutto, buonanotte ragazzi e sempre fino alla fine, ciao a io!